Sì, puoi fare la scarpetta. E dopo, prima mangiamo la pasta. Assaggiate un attimo. Garlic, onion, pomodori del piennolo. Sono tipici romani, giusto? Scherza. Meglio questo o risotto alla milanese? I like risotto. I like risotto, too. But this is better. Here we go. Let's do it. Ho fatto questo. Per la scarpetta, ogni pane is good. Al baguette, lascialo ai francesi. Ciabatta. You know what is the mean scarpetta? No, tell me. Little shoe. Because when you take the bread and you dip it into the sauce, it looks like a little shoe. Can I explain, please? No. Perché strusci. Come strusci il piede per terra, strusci il pane. Oh, yes. Eh. Che sta a fa... Ho capito, va. Ma non si fa così. Si fa così, guarda. Scarpetta con le mani. Anzi, con le mano. Ma se lo faccio con la porchetta non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, no. Ma non lo vedi? Pare che sta a mangiare un pollo. Ma che sta a fa? Va bene così? Direi che è perfetto. So this is actually called scarpetta, right? Scarpetta.